Ok, benvenuti alla nona guida, possiamo andare a correre Ah, ci sono, mi ricordano acqua, fuoco e erba Mi devo svitare? Ah no, quindi, non me ne posso andare? No, non me ne posso andare Ah, ma questo è tutti i camerieri Ah, il canale è a livello 12, c'è dietro Ah, il canale è a livello 12 Ah, il canale è a livello 12 Ah, il canale è a livello 12 No, god Nella prossima guida tornerò un po' su qualche livello in su perché però devo vedere di aumentare di livello the've dovrete fare anche voi per chi dice oppure si usano i trucchi basta che scrivete poche sub black and white anche se a me non piacciono i trucchi ho perso penso che questa scimmietta è lurida penso che ce ne siano una per l'erba una per l'acqua è una per il fuoco cazzo l'attacco pazienza ragazzi è una per l'erba è una per l'erba è un po' ma non vabbè vabbè ora penso che ci dovremmo andare prima a far salire un po di livello il nostro pokémon in modo che magari riusciremo a sconfiggere quel resto della quindi allora possiamo andare a navigare un po nell'erba anzi magari potremmo catturare anche un bel pokémon anche se ci sono i classici animati col cane e allenarlo ok ci sono i classici c'è la roba brutto quindi qui sicuramente non si passa oh cazzo che ho combinato che sta combinando ok non so che avevo combinato le tasti della tastiera però oggi è stato tutto vabbè allora abbiamo visto che qui non si fa da nessuna parte quindi dovremmo scendere giù andando giù giù chi è sto qua chi è sto qua chi è sto qua chi è andata ah bene 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 ok noi dobbiamo andare un po nell'erba cercare ok oh mi cattano non mi a livello 5 logico che l'ho preso penso proprio che non riesco a catturare questo pokémon perchè già mi ha giusto no vabbè no non attacchiamo spero che mi fa cambiare il pokémon switch no 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 entra dentro magari se non muore in un attacco poi dopo faccio entrare il castorlo in modo che lui sale dentro è o ci dobbiamo prima allenare i nostri pokémon poi continueremo con la guida Ciao tutti!